Animati. Ma niente si aspetta. Ridi della calca attorno al trofeo. È dimora instabile il gradino più alto. I piedi si pestano. I gomiti si fanno spazio e la fronte si corruga. Le mani vorrebbero aggrapparsi, ma il sangue non collabora. Ridi dei cordoni ombelicali che si fanno cravate. Sempre soffocanti, sempre più strette, sempre più insensate, sempre più insaponate, sempre più sporche. Riderai scorgendo la coscienza di te, eterea consapevolezza d'essere e meritare un posto solo tuo, sempre e solo il primo.